Molti anni fa, quando ancora ero piccolino, mio padre decise di iscrivermi a scuola di musica e ad imparare da buon calabrese la fisarmonica. Oggi voglio usare la fisarmonica e ho provato a imparare questo pezzo per fare un piccolo omaggio a tutto il popolo dell'Emilia Romagna che è nel mio cuore, naturalmente con la mia preghiera, con il mio affetto. Vi dedico questa musica per invitarvi a rialzarvi, a non mollare, come sapete fare soltanto voi, e a cantare, cantare la speranza. Un bacio e un abbraccio a tutti e forza! Un bacio e un abbraccio a tutti e forza! Un bacio e un abbraccio a tutti e forza!